Non mi permetterò di ottenere più potere Quacka boia ragazzi Fantastico Ok Level trigger Eccolo cos'è Una parte dell'indicatore Ah ok 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 Con calma eh Chi fa da sé Fa per tre Ok Che belle ambientazioni Guardate i riflessi Mannaggia Che lavorone Ah È vero Non mi ricordavo questa cosa qua Io posso fare una roba di questo genere A lei dire Cioè Attacca lui E loro attaccano per sempre parate Dove è il nemico Ah ma vabbè Ma vabbè è rimasto tutto l'intensivo qua No 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 Ah adesso non attacca uno di due separatamente Dai tua mamma Mamma mia ragazzi Fuck bestia Guardate qua il murale Il murale è la base di potenza Devo cercare il murale Dai tua Dai This is your misery Go ahead Settle back Erase you all He's going to break it Ah Ah Il mondo è un po' di più. Ho preso nella mia natura, una piccola creatura formata di piacere e di merito. Andiamo a amare senza l'olio di nulla. Però mi sa che adesso non è più uno a uno, non è più uno, lo prendo e lo metto lì. E' un prendo e decido dove metterlo, verità così. Ok. Fantastico, Califat. Qua, di fatti, non ce l'ho più. Allora, vediamo di trovarne un'altra. Guardate, non ci sono tempi morti. Non vi da tempo di avere tempi morti. Non ci sono tempi morti. Ok 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 Bacca boia I'm back. Send me back. Retreat. Slice him. Here it's going. Tell him a part of you. I didn't let you pin him to the wall. Rest in peace. Let me erase you all. This is your misery. Gouging. The angel that was on the wall. This little creature I wanted to do it in love with him. Die. Die. Okay. Die. All right. Okay. Grazie a tutti. Cabina, ragazzi. E sapete che vuol dire solo una cosa. Vediamo se adesso che siamo stati, appunto, eravamo in game. Può essere male, abbiamo sbloccato le abilità, visto che... Siamo qua. Ci vediamo. mamma mia ragazzi, che trash! 50.000 però abbiamo visto che adesso si inizierà ad aumentare le cose, no? Il fretto ovviamente. Ed eccole qua. Mi dà fastidio leggere, o meglio vedere il punto scammativo lì. Ok, adesso tecniche, vediamo un po'. Ok, questo è lo scatto. Promotion, applica. Ah, 45.000? Cioè, 45.000 per fare un balzo. Ma che cazzo è questo? Cioè, ma sono seri. Trigger Earth. Ok, Green Winner. Gainer. Giamme Verdi. White Gainer. Ah, ok. Attrazione. 50.000 per... Ma 50.000 per una nuova del genere. Cacca boia. E' con una piaggia di bastoni di monieci, ok? Il grifone. Vabbè. Vabbè, questo sì, lo si può prendere. Qua carica. Ok. Ora, visto che questa la fa... Spesso. No. No, 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 no. Facciamo anche la carica. Poi mi fermo. Double check. Bacca boia. Bacca boia. Non è male. Questa è la stessa cosa che fa Nero con la spada. La rotolata. Minchia. Anche questa qua... Comodissima. Bacca boia. Bacca boia. Questa è forte, ragazzi. Poi mi fermo. Nightmare. Per il momento mi fermo qua così. Ora, vediamo un attimino le abilità che abbiamo sbloccato. Vabbè. Questa è come quella di Nero con la spada. In avanti col triangolo, ok. E dopo avanti e indietro, quindi al contrario. Non dal giù e dal basso verso l'alto, ok. Anche a livello sì. Purtroppo lo scatto abbiamo visto che è importante. Boom. Direi basta. Basta. Basta, 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 basta. Perché le gemme sono univoche per ciascuno. Non mi ricordo ovviamente... Mi ricordo qualche poker... C'è poche cose... Perché non sono un minchioncino. Non mi piace questo. Tu? 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 A me Dash, tu? 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 Non ti piace questo. Non in questa vita, come l'aria per un uomo, o l'aria per un uomo, così è il contempo, per il contempo. Per 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 Ahia Ahia Ok, eh, ok, itu tidak baik Itu tidak baik Itu tidak baik Eh, tunggu, dimana? Kamu pulang? Itu tidak baik Saya takut Itu sedikit lebih banyak yang saya bisa mengambil sekarang Buono Buono 12285 B E B Ok Un giocatore con cui hai giocato online Prova da segnare stiloso a coloro che hanno combattuto con stile Guadagnano un certo numero Terai una gemma dorata Mai Non so chi sia Proviamo a valutare Ah no Vabbè Mmm Conferma I demoni Agli ordini di V Lo aiutano a liberarsi dal potente demone parassita Che trae linfa dalle radici del califot Ma un colossale bestia demonia che devasta la strada davanti a V Facendolo sprofondare nelle profondità del terreno Quindisi giugno ore 7.27 Ha Oh We're alive We made it It's our lucky day V Let's go find a game of cards These glyphot roots They're everywhere Well We are underground Then I guess we have some clearing up to do And me without my gardening shears Perfetto 41.000 41.000 Abbiamo già dato un'occhiata prima velocemente ed è attualmente un po' tutto troppo costoso Potrei per 6.000 adesso è diventato il prezzo è abbastanza ragionevole per modo di dire una gemma blu la posso comprare La devil trigger non ancora perché è specifico per lui No cacchio di no 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 è vero che Acquistiamo intanto mi fermo lì Torna stracomodo avere vita ragazzi E dai sono contento sono contento Scrivetemi come sempre sotto nei commenti cosa ne pensate del gioco Se avete dei consigli Qualsiasi tipo ragazzi Magari anche The devil trigger da utilizzare Tanto in un certo modo Potete anche fare un po' di spoiler Perché io il gioco l'ho già giocato Alcune cose di trama Me le ricordo a grandi linee Quindi non muoio se fate qualche spoiler Ovviamente non pesante ma se di necessità E niente ragazzi Io come sempre vi saluto Vi ringrazio per essere passati qui nel mio canale Mi raccomando iscrivetevi sia su Instagram che su Twitch Se volete rimanere aggiornati Quando faccio le dirette o quando pubblico i video E anche per i trailer E invece su Twitch per vedermi backstage Oppure giocare anche ogni giorno Vi ricordo E niente ragazzi Come sempre ci vediamo domani in un nuovo video Io vi dico una buona giornata a tutti Grazie per essere passati qui dal Teo Ciao